Un cortile di Francesco da record. Oltre 20.000 persone hanno partecipato alla quattro giorni di incontri. Oltre 200 i giornalisti accreditati, 42 panel e 70 relatori hanno animato la quinta edizione del festival. L'evento si è concluso ieri sera con il dialogo del cardinale Gianfranco Rovasi e Sebastiano Salgado. Noi abbiamo intervistato Padre Enzo Fortunato. A servizio dell'uomo, a servizio soprattutto di quei sentimenti più belli che ciascuno di noi si porta dentro. Da noi stessi, da questa comunità francescana, noi vorremmo contaminare gli altri facendo esprimere, esprimendoci reciprocamente la gioia dello stare insieme, la gioia dell'accoglierci, la gioia di fare comunità con chiunque so sia, la gioia di pensare che è possibile stare l'uno accanto all'altro. Io credo che questa pagina, quello che stiamo vivendo in Assisi, sia molto più bello di quello di chi vuole farci credere che dobbiamo stare chiusi l'uno contro l'altro, armati per difenderci. No, Francesco si presenta a tutti come un uomo disarmato, un uomo che vuole incontrare, un uomo che vuole far crescere una comunità, un popolo, le nazioni. È una grande iniziativa ma si aspettava questo tipo di risultato quest'anno enorme? Voi stessi come servitori dell'informazione state facendo notare quello che sta accadendo e quello che sta accadendo credo non ha bisogno di commento. Il commento si può fare sulla politica regionale? Il commento sulla politica regionale? Preghiamo.